Con Roberto Larince, Presidente della Federale Alberghi Fregea, qui a Bacoli, al Calamoresca De Luca e la presentazione di questa guida che può essere un grande inizio per il turismo dei campi freghei. Sì, una guida straordinaria che salta le peculiarità del territorio, suddivide il territorio in aree tematiche e geografiche e va nella direzione che noi ormai stiamo perseguendo da tantissimo tempo, che è quella della valorizzazione del turismo esperienziale. Oggi c'è una nuova frontiera del turismo che privilegierà sicuramente il turista come protagonista attivo. Oggi il turista non vuole essere più spettatore di quello che gli accade intorno, ma vuole vivere l'esperienza e voglio dire noi abbiamo un vantaggio competitivo che come dicevo nella conferenza un mio professore d'economia chiamava vantaggio competitivo conservativo, nel senso che abbiamo delle esclusività, delle unicità che nessuno può permettersi perché il Monte Nuovo, il monte più giovane d'Europa è solo qui, la città sommersa è solo qui, questo straordinario paesaggio che il Presidente De Luca ha definito il più bello del mondo insieme a quello di Ravello, li abbiamo soltanto noi. Quindi noi dobbiamo cogliere questa grandissima opportunità e puntare e continuare su questa strada, nel senso che tra poco saranno a disposizione di tutti questa piattaforma online che abbiamo organizzato, questo video emozionale che abbiamo finanziato noi privati, nonostante sia un video istituzionale di valorizzazione del territorio e intanto in questo periodo di lockdown abbiamo fatto anche una formazione per tutti gli operatori del turismo, più di 70, per insegnare loro a narrare il territorio dall'alto e dall'alto per far conoscere loro quali sono le attività che possono promuovere ai turisti.